Siamo alla finale di 400 con Matteo Galvan senza mezzi termini, favorito. Manuele Grossi, Umberto Mezzaluna, Lorenzo Valentini, altro reatino, Matteo Galvan, Giuseppe Leonardi e netta crescita questo ragazzo siciliano che corre per l'Enterprise Sport & Service. Passato abbastanza veloce, direi intorno ai 22, Galvan, Galvan intanto, bel margine per l'atleta Vicentino, cursia 3, Lorenzo Valentini per la terza piazza, sta cercando il tempone, ci sta provando, ci sta provando, ci crede, e ci crede, e ci crede, come! 45-13, il tempone ce l'è, è come se c'è il record italiano, e ci crede, come!